Ciao, cari amici e amiche, benvenuti tutti al canale Momento in Cristo, lo spazio dove ci immergiamo nelle profondità della fede alla ricerca di prosperità e abbondanza. Oggi vi invito a unirvi a me in un viaggio di connessione spirituale e arricchimento materiale attraverso una preghiera ancestrale. Una chiave segreta che sblocca le porte della prosperità nelle nostre vite, il Salmo 113. Questa preghiera potente ha il potere di attirare nelle nostre vite ogni sorta di benedizioni materiali, portando con sé denaro, ricchezza, abbondanza e fortuna. Pronunciando con fede le parole di questo Salmo, apriamo una finestra nei cieli, permettendo che l'energia della prosperità scorra abbondantemente nel nostro cammino. Prima di iniziare la nostra preghiera, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche per non perdere nessuno dei nostri momenti di connessione spirituale. Per potenziare il potere di questa preghiera, invito tutti a digitare nei commenti, ricevo lo spirito della ricchezza nella mia vita. Insieme, rafforzeremo la nostra fede e attireremo l'abbondanza che tanto desideriamo. E ora, prepariamoci a entrare in sintonia con il Divino, recitando la preghiera del Salmo 113. Che questa preghiera ci guidi sulla strada della prosperità e ci conduca alla realizzazione dei nostri sogni più grandiosi. Che ogni parola pronunciata sia come un eco nell'universo, attirando nelle nostre vite tutte le benedizioni che meritiamo. Dopotutto, siamo figli e figlie dell'Altissimo. E la ricchezza dell'universo è a nostra disposizione. Preparate i vostri cuori e le vostre menti, perché insieme esperimenteremo il potere trasformatore della fede. Che questo momento sia l'inizio di un viaggio verso la prosperità e il successo in tutte le aree delle nostre vite. Esiste una preghiera potente capace di canalizzare nella tua vita ogni sorta di prosperità. Il Salmo 113. Una preghiera ancestrale, nascosta per secoli. Che ha il potere di attirare denaro, ricchezza, abbondanza e fortuna. Questa preghiera è stata, segretamente, la chiave per molti nel trovare ricchezze inaspettate e non sapere come gestirle. Il Salmo 113 proclama, Dio arricchisce l'uomo povero, solleva l'uomo miserabile dalla polvere e lo fa sedere tra i principi e i potenti. È una preghiera così potente che, quando pronunciata con fede, apri immediatamente una finestra nei cieli verso la tua vita, portando con sé ogni sorta di benedizioni materiali. Questa è la preghiera del Salmo 113, che serve per attirare denaro rapidamente e in grande quantità, trasferendo nella tua vita ogni sorta di ricchezze, abbondanza e prosperità. Prima di iniziare, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare le notifiche. Per potenziare il potere di questa preghiera, scrivi nei commenti, ricevo lo spirito della ricchezza nella mia vita. Iniziamo la preghiera. Signore Dio, Sovrano dell'universo, eccomi qui davanti a te per chiedere la vittoria nella mia vita finanziaria. Affinché io abbia protezione nel mio cammino e giustizia nei miei impegni finanziari, ricevendo tutto ciò che mi spetta in questa esistenza. Chiedo una risposta rapida, opportunità e flusso di denaro nel mio percorso. Sono grato per ciò che ho e per ciò che raggiungerò. Credo, confido, consegno e realizzo. Chiedo, o Signore Creatore dell'universo, di aprire porte e compiere miracoli nella mia vita, in conformità con la mia fede e il mio desiderio. Versa su di me l'energia della ricchezza affinché io assista alla tua manifestazione e alla tua forte presenza nelle mie finanze. Rafforzami, Signore, e abbatti tutte le barriere che sono state rette sul mio cammino. Confido pienamente in te per il compimento dei miei desideri. Che le porte dell'abbondanza si aprano rapidamente, moltiplicando e prosperando la mia vita finanziaria, rafforzando le mie speranze con la tua infinita bontà. Manifestati urgentemente, Signore, portando denaro nella mia vita in modi attesi e inaspettati. Che la tua mano potente compia ciò che solo tu sei capace di realizzare, guidando la mia situazione finanziaria verso il successo. Che tutte le difficoltà si trasformino in vie di prosperità, con lo spirito della ricchezza che scorre abbondantemente nella mia vita. Tu sei l'esperto nel compiere miracoli e nel venire incontro a coloro che cercano il tuo aiuto. Signore, che tu sia davanti a me, aprendo porte e dissipando paura e miseria, affinché io proclami la tua esistenza in ogni luogo in cui passo. Ti chiedo, Signore, di piantare nella mia mente pensieri produttivi, di abbondanza e prosperità, affinché io prosperi e raggiunga grandi conquiste nella mia vita. Che il tuo Santo Spirito interceda nel mio cammino, offrendo il rapido aiuto finanziario di cui ho bisogno, affinché, nel tuo nome, io possa superare ogni avversità. Che, per la tua infinita bontà, le opportunità finanziarie emergano repentinamente, permettendomi di prosperare e raggiungere grandi imprese. Poiché tu sei il Signore dell'oro e dell'argento, tocca ora la mia mente affinché i miei pensieri siano rivolti al compimento dei miei desideri. Che pensieri di abbondanza e prosperità facciano parte integrante del mio quotidiano, e che sorprese finanziarie emergano rapidamente nel mio cammino. Credo fermamente che questa preghiera sia stata inviata ai livelli più elevati dell'universo Spirit, uale, e che qualcosa di inaspettato accadrà da questo momento in poi. Il mio destino è tracciato sulla via della prosperità straordinaria. E i risultati saranno visibili il più presto possibile. Ho fede, io credo. Chiedo quindi una risposta rapida, opportunità e flusso di denaro sul mio cammino. Sono grato per ciò che possiedo e per ciò che raggiungerò. Credo, confido, consegno e realizzo. Prego il Signore Creatore dell'universo di aprire porte e compiere miracoli nella mia vita, secondo la mia fede e il mio desiderio. Versa su di me l'energia della ricchezza, affinché io veda la tua manifestazione e la tua forte presenza nelle mie finanze. Che il Signore rafforzi e abbatta tutte le barriere che sono state imposte nella mia vita. Tu sei il Signore dell'universo, e sono in te confido per il compimento dei miei desideri. Che le porte dell'abbondanza si aprano rapidamente, permettendomi di moltiplicare e prosperare nella mia vita finanziaria. Che le mie speranze siano rafforzate dalla tua infinita bontà, poiché so che mi coprirai con la tua potenza. Manifestati urgentemente, Signore, portando denaro nella mia vita in modi attesi e inaspettati. Che la tua mano potente operi ciò che solo tu sei capace di realizzare, conducendo la mia situazione finanziaria al successo. Che tutte le difficoltà si trasformino in vie di prosperità, con lo spirito della ricchezza che scorre abbondantemente nella mia vita. Tu sei l'esperto nel compiere miracoli e nel venire incontro a coloro che cercano il tuo aiuto. Signore, che tu sia davanti a me, aprendo porte e dissipando paura e miseria, affinché io proclami la tua esistenza in ogni luogo in cui passo. Ti chiedo, Signore, di piantare nella mia mente pensieri produttivi, di abbondanza e prosperità, affinché io prosperi e raggiunga grandi conquiste nella mia vita. Che il tuo Santo Spirito interceda nel mio cammino, offrendo il rapido aiuto finanziario di cui ho bisogno, affinché, nel tuo nome, io possa superare ogni avversità. Che, per la tua infinita bontà, le opportunità finanziarie emergano repentinamente, permettendomi di prosperare e raggiungere grandi imprese. Poiché tu sei il Signore dell'oro e dell'argento, tocca ora la mia mente affinché i miei pensieri siano rivolti al compimento dei miei desideri. Che pensieri di abbondanza e prosperità facciano parte integrante del mio quotidiano, e che sorprese finanziarie emergano rapidamente nel mio cammino. Il destino è tracciato, il seme è stato piantato nel cantiere nascosto dell'universo. Confido pienamente che, in questo preciso momento, questa preghiera sia stata inviata ai livelli più elevati dell'universo spirituale. E qualcosa di inaspettato accadrà. Il mio destino è segnato sulla strada della prosperità straordinaria. E i risultati saranno visibili il più presto possibile. Ho fede, io credo. Amen. Ripetere questa preghiera per sette giorni, quante volte possibile, attirerà più denaro nella tua vita. Ricordati di farlo con profonda fede nel tuo cuore, perché senza fede, non funzionerà. L'unica differenza tra le persone ricche e le altre è che le ricche coltivano più sentimenti positivi nei confronti del denaro. Quando ti accetti come abbondante, il denaro fluirà verso di te. Per concludere la nostra intenzione in questa preghiera, ripeti con me, io sono il tipo di persona che attira sempre denaro velocemente. Io sono un vincente. Ricevo piogge di benedizioni nella mia vita. Fino alla prossima volta.